Medice curate Ipesum Presidente ma che dice? Adotto Stalazio è grave Ebbene non sta ma la stiamo riprendendo Visto che le iniezioni di Verder sono servite Ora pensiamo a come ammorbidire l'Inter I russi li ha fatti neri E gli dico che gli compro solari Così siamo appustoccati in tarella Prontus qui Loquitur Presidente sono il mister Qui ragazzi vogliono il premio partita Si Germanus De Flictus Est Non oblivisco quattro ore di sfattas Mi capisci? Presidente non la seguo Non se ne parla abbiamo battuto i tedeschi Ma prima quattro scopole in fila abbiamo preso Ma qui li ho tutti sul collo Mutarelli vuol farsi il tupè Gribari la maschera nuova E Mutingai non ha manco i soldi Dei pannoloni per il bambino No no poi cranium montatus est Se montana a testa Ad mai ora se vedemo Pecunia sempre pecunia Vabbè che non ho let ma qui si esagera Eh allora tutto domenica contro l'Inter che famo? Beh io proverei di nuovo il ragazzino E chi Muslera? Bravo l'è stato fermo abbastanza Poi mi va in depressione Ballotta l'ho visto un po' troppo agitato Capace che le chieda un aumento E poi Rocchi in tribuna Ad tribunam Certo non dovete venderlo al Milan Eh c'è il rischio che si rompa Sì Rocchi abbiamo già Oddo, Favalli, Nesta Se prendiamo Rocchi si fanno compagnia E poi lui ha pure detto camminanista E l'anno prossimo ci date pure le desma e pande Va bene? Ma così finimo in serie B No no all'ultimo vi salvate Voi ci servite sempre in serie A Che lo scudetto si vince con le piccole